Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal fino a sabato sulla Liguria, giornate caratterizzate da bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso e un po' di attività pomeridiana sui rilievi nelle zone interne. Ancora bel tempo domenica mattina, peggioramento nel corso del pomeriggio per il passaggio di una perturbazione in serata. Il dettaglio oggi, venerdì 12 luglio, una giornata all'insegna del bel tempo con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Nelle ore più calde, attività cumuliforme sui rilievi nelle zone interne con possibili deboli e isolati rovesci o temporali, possibili rari sconfinamenti costieri. Per quanto riguarda le nubi, venti in prevalenza meridionali tra deboli e moderati, brezze sotto costa con locali rinforzi intorno ai 40-50 km orari, mare poco mosso, umidità su valori medi, temperature massime in aumento lungo la costa tra 28 e 31 gradi, nelle zone interne tra 27 e 29 gradi. Domani, sabato 13 luglio, bella giornata di sole, cielo in prevalenza sereno sulle coste, mentre nell'interno si potrà avere qualche addensamento nel corso della mattina e attività cumuliforme pomeridiana. Venti in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati, brezze sotto costa con locali rinforzi intorno a 40-50 km orari, mare in aumento fino a mosso in mattinata dal pomeriggio in calo a ponente, umidità su valori medio-bassi, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 21 e 24 gradi, nell'interno tra 15 e 17 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 29 e 32 gradi, nelle zone interne tra 27 e 31 gradi. Dopodomani, domenica, 14 luglio, bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, segue un peggioramento delle condizioni meteo per il passaggio di una perturbazione in serata. Si attende sulla nostra regione un aumento della nuvolosità associata a rovesci o temporali moderati. Venti in prevalenza settentrionali, moderati, intemporanea attenuazione nelle ore centrali e ripresa in serata con locali rinforzi fino a 50-60 km orari, mare in mattinata tra poco mosso e localmente mosso. Nel pomeriggio poco mosso, umidità su valori medio-bassi, in aumento nel pomeriggio, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 22 e 25 gradi, nell'interno tra 16 e 18 gradi, massime in diminuzione lungo la costa intorno 27 e 28 gradi, nelle zone interne tra 25 e 29 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti!